Ragazzi, Wilson è ufficialmente tornato dopo il giro in lavatrice Per chi si fosse perso quel video, ragazzi, mi raccomando, andate a vederlo sul canale Fisso per 10 minuti la lavatrice E c'è finito dentro pure lui Sono tornate le Build Battle E quest'oggi, ragazzi, oltre a dover lasciare un mi piace immediatamente Che io non vado avanti se non lasciate un mi piace, eh Non sto a scherzare, e va bene Io tutto il giorno, se non lasciate un mi piace, non mi muovo di qui e non costruisco niente Bravissimi, l'avete fatto, perfetto Iscrivetevi al canale, tirate la campanellina Io vi auguro una buona visione Bene ragazzi, questo è mi bentornati in questo nuovissimo video della serie delle Build Battle Sul mio canale Eccoci qua, siamo nella lobby principale Adesso andiamo immediatamente nelle solo mode Sono passati circa due mesi Dall'ultima gara di costruzioni su Minecraft Eccoci, qualcuno ha già scritto in chat Stepney, mi hanno identificato, raga In realtà è una cosa positiva, perché non sono le Bedwars Abbiamo una piscina, il barbecue, i cartoni, la tastiera e i pixel Io direi di fare la piscina Che ce la caviamo alla grande Hanno votato davvero piscina, molto bene Mi servono degli stone slab Poi ho preso dell'acqua Perché non posso usare lo stone slab Mi prendi in giro? Dai, cioè questo è il blocco più bello di tutti per le piscine E non lo posso usare Secondo me dobbiamo cambiare anche tutto il pavimento in qualche modo Quindi aspettate, perché ho preso la sabbia Come faccio a fare una bella piscina? Secondo me dobbiamo fare qualcosa tipo quello che abbiamo a casa nostra Quindi vi dirò di più La faremo molto alta da questo lato Che sgorga poi all'interno di un'altra vasca Voi starete pensando Stepney, ma devi fare una piscina? Cosa diavolo stai realizzando? Adesso capirete, non vi preoccupate In teoria per fare un buon lavoro Dobbiamo fare una cosa del genere E mettere tutta l'acqua a questa altezza qua Dopodiché spaccare questi blocchi Acqua ferma e non corrente Quindi esattamente in questo modo qua in teoria Praticamente finito Spacchiamo tutti i blocchettini sotto Così rende perfettamente l'idea E voi direte Step, ma veramente questa è la piscina? Fa un po' schifo No, non è questa la piscina La piscina verrà creata esattamente qua E adesso vedrete Voi provate a dirmi che non è una figata assurda, eh Che faccio la discesa pure per l'acqua E la facciamo tutta qua intorno Forse avrei dovuto mettere un po' di dettagli Tipo delle sdraio, un trampolino Va bene ragazzi Un attimo che adesso mi sbrigo e facciamo tutto Spero di aver preso bene le misure Perché tutte le volte che faccio queste cose di fretta Succede qualcosa di sbagliato Molto bene E anche qua la nostra piscinotta ce l'abbiamo Fatemi mettere tutta quanta l'acqua del caso So che è molta e so che probabilmente non sarà manco mai equilibrata Ci saranno le correnti in quella A E guardate che vi faccio raga Spaccando qua Tiè Piazzola Piazzo l'acqua E dovrebbe No No Non è quello che volevo fare Maledizione Ma stai scherzando? No raga non voglio quest'acqua di sotto È inutile, è bruttissima Per togliere l'acqua devo togliere tutti i blocchetti uno per volta Ma è una tragedia Vorrà dire che ci inventeremo un'altra alternativa E qui metteremo del verde Che voi direte ma non è erba Lo so che non è erba ragazzi È lana Ma non importa Dai ci ha rovinato tutto l'acqua Accidenta a me devo stare più attento Purtroppo non sono manco riuscito a mettere le sdraio Ma come caspita faccio? Non c'era tempo Ok Almeno questo l'abbiamo fatto Che casino assurdo per fare una piscina Sono un pirla Avrei dovuto prendere il quarzo e non ci ho pensato Molto carina questa mi piace C'è chi ha votato epico addirittura Lui che cosa aveva in mente di fare? Cioè questo è un pannolino per quanto mi riguarda È il mio turno Io spero che qualcuno possa gradire In realtà non è niente di assurdo Ho fatto la parte sopra che porta l'acqua Nella parte inferiore Niente Mi sa che non hanno votato molto bene Facciamo ok anche a questa perché fa un po' schifo Ah lui pool l'ha inteso come il tavolo da biliardo Ci può stare Lui invece ha fatto la piscina olimpionica Con tutti i trampolini belli Bellissima questa Molto bella Epic Secondo me vince lui Lui aveva avuto probabilmente un'idea molto carina inizialmente Ma poi è sfociata nel disastro totale Guardate che caspita ha messo a giro Questo ha fatto un trampolino con la scala Chiolce Va bene Hai fatto lo scalino dentro però Io queste cose le apprezzo I dettagli sono fondamentali Donna ma in confronto a me Cioè hanno fatto tutti i giardini dell'Eden Lui ha distribuito male l'acqua come me Però l'idea nel complesso è carina Lui non ha saputo distribuire bene l'acqua al centro Perché non ha usato la mia tecnica Quella che vi ho fatto vedere E non ha finito neanche il bordo Però ok Zaniolo Che è il calciatore Lui ha fatto un po' Una cacata In mezzo al nulla Ha messo dei tappetini Mi piace Dai ok E vince il nostro senator Castro Sono arrivato terzo però raga Se guardate la classifica Pensavo peggio Terzo posto mi accontento Perché ora la seconda facciamo un secondo posto La terza facciamo un primo posto E chiudiamo in bellezza Il ritorno delle build battle Alla grande Comunque raga Se avete in mente qualche minigioco Che vorreste vedere sul canale Fatto da solo O fatto in compagnia Scrivetelo Commentate Consigliate A più non posso Ma che ne so Se volete vedere le bad wars con Kendall Scrivetelo nei commenti Le build battle con Surry Scrivetelo nei commenti La serie vanilla Dove invito qualcuno nel mio server Scrivetelo nei commenti No c'è di nuovo il senator Castro Lui madonna Ci ha appena castigati tutti quanti Vediamo un po' il secondo round Pane Arcobaleno Bug Che può essere insetto o errore Latte o gioco Beh ovviamente arcobaleno Tutta la vita No Arcobaleno ragazzi Ma chi è che ha votato il latte Ma siete seri? Raga può sembrare una cosa folle Ma devo ricreare una mucca gigante Vedo che principalmente La mucca è nera e marrone Cioè c'ha gli zoccoli neri È marrone e qualche macchia bianca Va bene Dopo aver creato la mucca Ovviamente dobbiamo fare Il punto da cui esce il latte Quindi spero che non mi voteranno Super poop Solo perché ci sono un paio di popine Della mucca Me lo auguro Devo cercare di essere un po' casuale Ma devo anche sbrigarmi in compenso Perché come vedete il tempo Non è moltissimo D'altro il problema principale Sarà tutta la parte superiore E la faccia Non so se mi conviene chiuderla De tutto là sotto Molto probabilmente no Facciamo le mammelle Per il latte E nient'altro Dai non dobbiamo esagerare Con la grandezza Se no poi non riesco a chiuderla Io li conosco I miei polli E io sono il mio pollo E questo è il problema Sono cacciato in una situazione Leggermente scomoda Ragazzi Ma vi prometto Che ne verremo fuori In qualche modo Facciamo tutta la parte centrale Del popometro Voi direte Ma anatomicamente parlando Non è proprio fatto così Vabbè raga Cioè nel senso Capite vale il principio Giusto? Come faccio? Devo fare una roba del genere? Si capirà? Lo capiranno? O mi odieranno? Beh io spero che capiranno eh Devo anche ricordarmi Di cambiare il pavimento Il prima possibile Allora io vi direi Qua dentro Iniziamo già a mettere del latte E poi facciamo tipo anche La gocciolina di latte Che cade da qua sopra Vediamo se riesco a fare Tutto come voglio L'idea secondo me Non è male Il problema è che Non ho ancora finito la mucca Non so se è abbastanza chiara La situazione Non ho terminato la mucca Subito il pavimento in grass Molto bene Ok Così c'è la parte inferiore Fatta a dovere Dobbiamo finire la mucca raga Abbiamo un minuto esatto Per chiuderla sopra E fare una testa Oh mio dio Ormai mi conoscete Ho un grosso problema Con le teste Facciamo gli occhi Prima che sia troppo tardi In questo modo qui Continuo il resto della capoccia Ve l'ho detto Che non so fare le teste Aiuto Siamo nei guai Raga avevamo fatto un bel lavoro Ma come al solito È un po' incompleto Perché voglio fare le cose Troppo grandi E queste non sono le pro mode 3 2 1 Ok Ho finito Ho finito Non è una mucca in faccia Ma nel complesso ci siamo Giuro che ho mal di pancia Da quanto mi sono sforzato Questa è una bella brocca di latte Con un biscotto Io apprezzo Mi piace Ho usato il quarzo Che volevo usare anch'io Anzi che ho usato anch'io Tutti hanno fatto la brocca Però questo ha fatto un po' Una schifezza Cioè tipo come se fosse caduta E si fosse rotta Vabbè dai Diamogli un good Ho fatto la mucca Con le popine Che butta il latte Non potete non votarmi Leggendari eh Non mi hanno dato leggendari Cioè non arriverò probabilmente Manco secondo A me sembrava un bel lavoro Sarebbe stato semplice Limitarsi a fare un tavolo Con un bicchiere di latte Mi sono spinto Un po' più avanti Sono andato all'origine Chilometro zero La mucca Con il latte Che scende dalle popine Questa cosa sta facendo Una vecchietta Che beve una tazza di latte O una goccia di latte Non lo so Che fantasia fra tutti Un altro bicchiere di latte Anzi una tazza di latte Col biscotto Spero di aver fatto Almeno un secondo posto Ragazzi No Cioè mi state prendendo In giro solo perché La mucca Non aveva una faccia Da mucca Adesso io devo essere giudicato Cioè rispetto a un bicchiere di latte Io ho fatto la mucca È l'ultimo round Draga Castello Eating composition Viking Backpack Rubber duck Non ho la minima idea Di cosa fare Backpack Devo fare uno zaino Oh mio dio Allora diciamo che in realtà Lo zaino non è difficile Da realizzare come cosa Però come lo facciamo Non ho idea Però ho visto che nell'inventario Avevamo dei blocchi rosa E ho pensato Potrei fare uno zainetto Dietro a un personaggio buffo Quale potrebbe essere Un personaggio buffo Ma ovviamente La pantera rosa Non saprò mai Ricordare a me stesso Nella mia testa Come è fatta La pantera rosa Ma noi facciamo Tutto un corpo rosa E speriamo che Semplicemente capiscano Partiamo dal presupposto Che secondo me Già così Inizia a essere strana Come cosa Però la pantera rosa C'ha un muso Ovviamente Che è una pantera Oh mio dio Oddio brutto Ammetto Che è fedele Come ricostruzione La pantera rosa Ma è bruttissima Gli vogliamo fare Questo zaino Io spero di stare realizzando Qualcosa di sensato Comunque Qui possono continuare Le bretelle Dello zaino Che arrivano fino in fondo Tiè Facciamo anche una parte In fuori Che sporge leggermente Così Può sembrare La parte più esterna Dello zaino Beh lo zaino Deve almeno circondarla Giusto Quindi cioè Le va intorno La sacchetta dello zaino Se no non avrebbe senso Raga più che uno zaino Sembrano delle bretelle Però è l'unica costruzione Che sono riuscito a finire Oggi Lol Poi direte ma è necessario Fare il contorno Alla pantera Non lo so Non lo so Probabilmente no Sto facendo una cacata Io raga Sono solo preoccupato Di una cosa Non capiranno Che è la pantera rosa Ve lo garantisco Per il semplice motivo Che probabilmente Non capirei manco io Che è la pantera rosa E' veramente brutta Raga Ma che caspita Ho fatto E con questo contorno Ho peggiorato pure la situazione Accidenti a me Accidenti Mettigli anche la pancina bianca Già che ci sei Qua al centro Che è Così Ah che carino Vi dirò in realtà A me non dispiace Sembra che stiamo andando A fan cuore qualcuno Oh no Cosa diavolo ho creato Raga È un mostro del male Nessuno capirà mai Dobbiamo fare Semplicemente uno zaino Lui sembrerebbe Averlo realizzato In 3D addirittura Mi piace molto Voto good Lui ha fatto uno scalatore O qualcosa di simile Lo zainetto L'ha fatto molto simile al mio Ma il suo È molto più bello del mio Allora arriva qualcuno Che ha fatto Il personaggio di Death Stranding Esce qualcosa tipo Leggenda Arri fuori di testa Questa è Donna L'esploratrice Ragazzi È lei Tutti fanno Questo aggeggio laterale Allo zaino Che effettivamente è figo Perché è la tasca esterna Mi piace Molto molto più figo del mio Attenzione È arrivato Stepney E diranno Ma che sa Che sta Vartaggine schifosa Cosa hai fatto Tutti che hanno il poop In mano Ma vergognatevi Non sono da poop Non me lo merito Questo ragazzi Ha fatto Una tazzina Con il tappo sopra Cioè questo non è uno zaino Questa ditemi ragazzi Che non è una tazza Con due manici Cioè per me è no Ha vinto questo qua Il primo a averlo fatto in 3D Noi siamo lontani Addirittura dal podio Siamo arrivati sesti Su sette Ma che tristezza Disconnetti Cari amici Questo video di oggi Delle build battle Termina qua Spero che vi sia piaciuto Le ho riportate Perché me l'avete chiesto In tantissimi Quindi spero che abbiate Mille milioni di pollicioni Da lasciare qua sotto Commentate Iscrivetevi Attivate la campanellina Noi ci vediamo Nei prossimi giorni Con un prossimo video Qua sempre è tutto Ok Wilson non è che ora Se la lavatrice Ti ha frullato il cervello Devi venirmi a dire Che non so più costruire Cavolo è vero Ragazzi sto invecchiando Non so più costruire È finita Ciao Ciao